Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vado a fare due chiacchiere sulla conferenza stampa di Gattuso dopo Napoli-Spezia e sul calciopercato a proposito. Proprio perché Gattuso nella conferenza stampa ha detto, no noi stiamo a posto così, non abbiamo bisogno di rinforzi, non faremo investimenti, se non qualche acquisto secondario, ma per la prossima stagione. E io a questo punto mi chiedo, alla luce degli ultimi risultati, Cagliari a parte, in cui abbiamo fatto una buona partita, però non siamo riusciti a vincere, poiché proprio mancano gli attaccanti, o per qualsiasi altro motivo sia, perché i giocatori sono stupidi, quello che volete voi. Quindi, dico io, ma Gattuso, non è che ci fosse bisogno di, non so, qualcosa, almeno un giocatore in più, qualcosina, non lo so, perché, sì è vero, in attacco siamo anche tanti, però mi voglio ricordare che per esempio Insigne non ha un vero e proprio sostituto. E, diciamo che in questo momento di difficoltà fisica, il Llorente non è proprio il massimo su cui affidarsi quando si vuole risolvere una partita, cioè io mi chiedo, il Napoli veramente sta tanto bene da non dover fare nessun acquisto? Secondo me può, può essere come dice Gattuso, però non lo so, non lo so, io, certo è che la rosa è ampia, sono stati spesi 80 milioni per Rosyman, che non erano mai stati cacciati così tanti soldi per un giocatore in una squadra del Napoli, in un Napoli, una presidenza napoletana, non aveva mai cacciato tanti soldi. E ora, andare a ricorrere sul calciomercato quando tu hai speso un patrimonio, praticamente, per questo giocatore è un poco, ecco, inusuale, lo capisco, considerando anche che abbiamo speso anche abbastanza per Petagna, perché Petagna è stato pagato 17 milioni, ve lo ricordo, dalla spalla. E a questo punto, ragazzi, c'è tanto il nome di Zaccagni in giro nei siti di calciomercato e non lo so, secondo me sarà più un giocatore che verrà preso col segno di poi, cioè nel senso, magari lo si compra ora, lo si lascia in prestito al Verone e poi viene a Napoli in estate. Quindi un acquisto, come si dice, un acquisto preventivo, ecco. Non lo so, per me il Napoli qualcosina lo potrebbe anche fare, però solamente alla luce delle partite che abbiamo giocato. In realtà la rosa è completa, se poi andiamo a vedere. Purtroppo è così. L'unico movimento che potrebbe essere fatto può riguardare i terzini, perché poi Mario Rui sta facendo delle pessime partite e Goulam non è un degno sostituto. Anzi, Goulam, non so veramente che fine ha fatto il gran giocatore che era, adesso è diventato veramente un giocatore riconoscibile, che veramente non so più in quale squadra potrà mai giocare, perché secondo me la carriera sua, ragazzi, è abbastanza compromessa ora, e mi dispiace. E quindi il terzino è l'unico vero ruolo in cui il Napoli possiamo dire che è scoperto. Anche se poi in realtà il Napoli adora a tre terzini destri, e uno di questi è Elsa Head, Usai, che fino a prova contraria è un ottimo giocatore e può giocare su entrambe le fasce. Quindi in realtà il problema del terzino sinistro è anche un falso problema a livello numerico, perché Usai potrebbe fare il terzino sinistro all'occorrenza. Quindi vabbè. Ogni modo, ditemi la vostra, consigliate, secondo voi, se siete d'accordo o meno con me, ovvero che il Napoli, un acquistino io comunque per dare un po' di freschezza io lo farei, almeno sulla fascia sinistra nel ruolo del terzino. E voi ditemi la vostra, ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Non dimenticate di iscrivervi e di commentare, come vi ho chiesto. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e ciao.